a quina abbatata ragazzi bentornati dal vostro cerisette ronaldi cerisette siamo qua su questo nuovo video e vedo che siamo se ne sono andati due dal canale vi prego aggiungetevi altre persone commentate condividete questo video e buona visione bella allora siamo qua su questo video per dirvi per stasera ci sarà milan lazio lazio mila scusate voi chi ti ferete a me non importa io ti fai milan raga poi se voi ti fate juve inter fate voi io ti fai milan comunque stasera faremo la live sulla partita però si vedrà un poco male però su questo video aggiungiamo raggiungiamo i 10 like e poi che vabbè non so raga sono senza parole comunque stasera non si vedrà se si vedrà male la live vabbè la partita poi dopo siccome io ho il computer e lo posso attaccare al mio televisore questo qua e io proverò anche per mi comprerò un computer nuovo e giocheremo il computer giocheremo con il pc che il computer a fortnite raga e e vabbè questi video stanno durando così poco perché non so che cosa fare perché poi quando avrò la la nuova playstation 4 me lo comprerò a marzo il 15 marzo se siccome io faccio balla a volo mia mamma e mio padre mi hanno promesso se vinciamo mi comprano la nuova playstation 4 siccome mio zio le vende se volete allora la playstation 4 slim la vende a 40 euro quella pro la vende a 190 poi la playstation 3 e playstation 2 costano la playstation no allora la playstation 4 slim costa 90 la playstation 3 costa 40 e la playstation 2 che la vende ormai non me lo ricordo ma mi pare che lo vende a a 60 euro una cosa del genere però e ora vi dico dove lui lavora e lavora da gamestop e come si chiama la nuole porte neanche al centro sicilio come si chiama etenapolis e la cellula di gamestop e che è aperto da poco aperto due settimane se voi ancora non ve ne siete accorti andate in quel negozio ci sarà mio zio si chiama alessandro prima se voi e volete commentare su questo video io vi consiglio di commentare mettete like scrivetevi e attivate la campanella qua c'è la mia playstation 3 60 qua aspetta non so se ecco però io farei una live però non so come si fa e comunque vi volevo dire un'altra cosa non possiamo giocare con questa xbox 360 perchè le batterie non funzionano non si accende il joystick quindi ci serve altri due joystick questo qua lo venderemo con batterie comprate lo venderemo 3 euro e 50 se volete acquistarlo su facebook vabbè su tutto però non ora verso verso l'1 marzo raga non lo so però faremo la live che saremo a gamestop a comprare i due gioie lo compreremo uno e poi la prossima poi la prossima volta un altro così giocheremo io il mio zio che è questa xbox 360 e me l'ha regalata il mio zio per il mio compleanno ma l'1 ottobre me l'ha data vabbè raga comunque il video finisce qui io saluto ehm a mario te bomber che è un mio compagno di scuola e a luigi 46 ehm che non penso stia guardando la live però ehm ora andrò a casa sua e li farò vedere la la ehm vabbè il video alla prossima raga mettete 10 like e iscrivetevi e attivate la campanella alla prossima alla prossima ciao